... Mercoledì 13 gennaio, buongiorno ben ritrovati cari telespettatori, siamo in diretta, sono le 7 del mattino, canale 17 di Fano TV, tutta la regione Marche sul digitale terrestre ma anche sui nostri portatili, sui device, sui cellulari, sulla pagina Facebook di Occhio alla Notizia. Allora cominciamo dal santo del giorno, poi andiamo a vedere il tempo, il santo di oggi con il cartello è Sant'Ilario di Poitiers, il sole sorgerà alle 7.43, tramonterà alle 16.55 e adesso uno sguardo al tempo. La prima raccomandazione che mi viene da fare per chi si sta mettendo in moto in questi minuti è quella di fare attenzione al ghiaccio, cioè ghiaccio sulle strade. Siamo a meno uno perlomeno qui a Fano questa mattina ma immagino che le temperature siano origine sia qui che altrove. Come vedete il tempo sarà soleggiato con qualche nuvolosità ma per il resto c'è solo ghiaccio e queste gelate diffuse anche durante la notte e il primo mattino. Ora invece questo il tempo fino a venerdì 15 ma attenzione perché come rimarca il sito della protezione civile delle Marche i giorni da sabato e domenica pur rimanendo in un contesto stabile il fine settimana sarà caratterizzato dall'ingresso di impulsi di aria fredda dai Balcani che potranno dar luogo a isolati e brevi nevicate. Quello che vi dicevamo nel corso del telegiornale di lunedì quindi con un netto anticipo viene confermato questo arrivo di aria artica quindi che porterà freddo e qualche nevicata forse anche sulla costa ma qualche fiocco sulla costa. Allora andiamo a vedere sul giornale il Corriere Adriatico edizione di Pesaro lavoro bruciati 5.000 contratti questo è il titolo d'apertura in 12 mesi occupazione impicchiata il dirigente del centro per l'impiego dice siamo nella bolla. La CNA nel settore della moda il fatturato si è dimezzato gli altri comparti sono in difficoltà e poi i soldi che dovrebbero arrivare e arriveranno dall'Europa il recovery plan con due chance per le Marche si parla di ferrovia orte falconare il collegamento che porta poi a Roma e l'ultimo miglio che è questo vedete come è fatto questo ultimo miglio. Questo è il tracciato il tratto che da Falconara porta poi alla stazione di Ancona vedete com'è arzigogolato ebbene quest'ultimo miglio chiaramente potete immaginare i treni lo percorrono quasi a passo a passo duomo. Si tratterebbe di organizzare un tracciato che dia la possibilità appunto di fare quest'ultimo miglio ad una velocità decente. Poi l'intervista a Difuria ecco cosa succederà nella fase 2 per i vaccini. La Difuria è la dirigente del servizio salute dell'agenzia regionale sanitaria che affronta l'emergenza covid. Spiega dice stiamo delineando le linee per la seconda fase dove devono trovare risposta per prime le categorie fragili. Il personale scolastico è stato indicato come personale di servizi essenziali che fanno parte appunto della seconda fase. Poi in breve abbiamo le altre notizie sempre dalla prima caccia ai medici per la campagna nelle case di riposo. Poi il virus non risparmia Giombini tra i patron del circo immobilieri. E poi Salvini è il leader della Lega che sponsorizza carriera all'ira del sindaco di Pesaro Ricci. Sotto condannato per i fendenti al rivale anche l'ex dovrà essere processata. Mi voleva uccidere insieme ai nostri figli. Non era vero la donna accusata di calugna. Lui condannato per tentato omicidio ma ora anche lei la sua ex fidanzata finisce a processo per calugna. Una storia che risale nel 2019 quando Azzam Mohamed 26 anni fu arrestato dalla polizia dopo una breve fuga nei campi per aver accoltellato il 27enne presunto compagno della sua ex. E poi a Gabic giochi pericolosi, maxi sequestro della Guardia di Finanza. Il Carlino di Pesaro. Il Carlino di Pesaro apre con la fotonotizia dell'assessore regionale della sanità, Salta Martini, che dice che per i tamponi a scuola non c'è personale e quindi non possiamo farli. Ricci in realtà ci puntava molto, arriva dunque per lui questa doccia fredda. Quanto ci sia di politica in questa azione non lo sappiamo, possiamo solo immaginarlo. Ma comunque questa è la foto e l'apertura del Carlino di Pesaro. Intanto sui ristoratori, Salvini accende la miccia disobbedienti pronti ad aprire venerdì sera. L'ex ministro al fianco di Carriera, Ricci dice noi qui a Pesaro rispettiamo le leggi. Dunque sarà davvero interessante vedere come procederà, come andrà questa cosa. Chiusa l'operazione invece sottovuoto, 10 arresti, 16 indagati, preso anche il capo della banda, un giro di cocaina. E poi tra poco l'intervista vedremo a un ex pallavolista fanese che vive a Londra ormai da una decina d'anni, più di una decina d'anni. Qui hanno meno paura di noi, questo è il dato interessante. Quindi questa la dice lunga su come stiamo facendo informazione. Però fa un'analisi interessante che poi vedremo nel commentare questa notizia. Valanga si stacca dalla parete invece del nord-est del Monte Catria, quindi nevone e disagi. E poi la bella notizia invece che riguarda Rolando Ramoscelli, noto ristoratore, che dalla rianimazione, quindi dall'ospedale, torna ai fornelli. Che gioia malgrado tutto. Terapia intensiva a Marche Nord, ricoveri raddoppiati in due settimane. Poi di taglio basso, lo sport, come sempre in prima pagina, il basket, Filloi ha ritrovato la mira. Vuel scusa il ritardo, dice l'argentino decisivo contro Brescia. Non mi sono mai sentito in discussione. Mentre sul calcio Serie C, Vis Ecotassi e Nidiaie, spero che si lega così, ma abbiate pazienza. Si tratta Ferrari, l'ex regista dell'Arezzo ieri al Benelli, in arrivo il portiere a caccia e caccia al difensore. Mentre sulla pagina di Macerata, invece, voglio farvi vedere questa prima pagina con la fotonotizia, perché questo è un altro dato interessante, di cui ovviamente non è una novità, ma è interessante perché è sparita l'influenza, praticamente. Vaccini, mascherine, distanze, mai così pochi casi. Adesso c'è solo Covid, l'influenza non c'è più. E a proposito di Covid, a proposito di vaccini, oggi sul resto del Carlino di Pesaro ci sono due pezzi che ha firmato Simona Spagnoli e sono due interviste. Uno, la prima intervista è ad un medico, che vedete in questa, no, non è in questa foto perché questo è Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta numero 1, mentre il medico che ha detto, anzi che ha deciso di non fare il vaccino è Filippo Grianti. Lui aspetta a vaccinarsi, aspetta, il vaccino che c'è adesso evidentemente non lo convince, poi spiega anche perché non lo convince. Però lui tiene a precisare una cosa e questo è importante dirlo. Se fossi convinto che il vaccino faccia male, risponde Grianti, lo direi senza alcun problema, ma questo non è. Non ho nemmeno le competenze per poter fare un'affermazione del genere. È stato un malinteso dunque, chiede la Spagnoli, risposta, sono un medico che crede nei vaccini, li ho sempre fatti e li ho somministrati ai miei pazienti. Nel caso del farmaco anti-Covid ho detto che, visto che siamo nel mezzo di una pandemia, è necessario assumerlo per evitare i rischi e i guai peggiori. Lei lo farà però? Domanda. Risposta, no. L'ho detto chiaramente e ho spiegato anche quali sono i motivi che mi spingono ad avere questa posizione. Poi li spiega, li troverete nel giornale che potrete acquistare in edicola. Quindi lei lo rifiuta, probabilmente farò un altro vaccino che non comporterà questo tipo di imposizione. Qual è l'imposizione? È la firma, che cos'è che non piace al dottor Grianti? Cerco di sintetizzarlo al massimo. C'è tutto legato al fatto che nel momento della somministrazione vengono fatti firmare dei fogli per il consenso informato. Ora, se il vaccino è stato approvato dagli organismi regolatori, non ci dovrebbe essere questa firma. Non si dovrebbe chiedere nessun tipo di firma, così come accade per tutti gli altri vaccini. Si fa e basta, questo dice il dottor Grianti. E se è successo questo è evidentemente perché la Pfizer, che produce il vaccino, ha prodotto questo farmaco in tempi molto più rapidi di quelli tradizionali e quindi l'amministrazione sanitaria giustamente si vuole tutelare. Ecco, questa cosa non piace al medico ed è per questo che dice non farò questo vaccino, evidentemente aspetterò e farò un altro vaccino. Adesso ricordiamo che arriverà quello italiano, credo nel mese di giugno, se tutto andrà secondo i tempi, quello che è stato già annunciato allo Spallanzani a Roma e si farà solo con una dose. Non serve metterlo a 80 gradi sotto zero, non serve fare tutte queste cose, ma una dose che si fa e punto e basta. Questo arriverà però nel mese di giugno. E come risponde invece Carlotti, che è la persona che vedete nella fotografia? Carlotti dice questa cosa del dottor Grianti è evidentemente forviante, è un atteggiamento così. E anche se il collega non ha sconsigliato il paziente a vaccinarsi contro il Covid-19, il suo atteggiamento resta chiaramente forviante per un rappresentante della sanità pubblica, perché dovrebbe farlo e basta. Questa è l'intervista che potrete trovare sul giornale. Ora sulla questione sanitaria invece, i numeri che ci interessano per capire come sta andando un po' la situazione nella nostra provincia, oltre che nella nostra regione, a pagina 4 del resto del credito di questa mattina, ma per chi ci segue dalle altre province, credo almeno così ho visto anche nelle altre versioni, nelle altre edizioni, quelle di Macerata perlomeno e quella di Ancona, ci sono pagine simili, quindi con i comuni di riferimento di quelle province. Allora, le terapie intensive qui a Pesaro e Urbino, nella provincia, abbiamo dei ricoveri che sono raddoppiati, le marche viaggiano adesso verso la colorazione arancione, anche se probabilmente la prossima settimana saremo ancora gialli, ma questa prendetela con le pinze, saremo ancora gialli. Poi quella dopo probabilmente saremo arancioni. Perché? Perché purtroppo qui la situazione nella nostra provincia non è buona. I contagi sono molto alti e forse non si capisce neanche bene il perché, però i comuni di Pesaro e di Fano sono quelli con l'incidenza maggiore in regione, quindi siamo i peggiori nella regione. Ieri c'erano 563 casi a Pesaro e 514 a Fano. Capite che stando così le cose dobbiamo aspettarci sicuramente almeno un arancione. Speriamo non la zona rossa perché sapete che adesso avendo abbassato gli indici l'Rconti non deve essere più l'1,50 ma basta l'1,25 e siccome siamo adesso ancora a 0,98-0,99 probabilmente la settimana prossima saliremo sopra l'1 perché i contagi con questi numeri non si vada da nessuna parte e quindi arriveremo sicuramente alla zona arancione. Ma speriamo che chi ci ascolta, tutti quanti noi, facciamo in qualche modo i bravi, come si dice, a scuola fate i bravi e speriamo che capiscano che se non ci mettiamo distanti, se non ci mettiamo le mascherine, se non facciamo i furbetti, qui non se ne esce più da questa storia. Intanto l'assessore Saltamartini dice, a proposito di quella iniziativa che è stata sponsorizzata soprattutto dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci e non a caso, qua abbiamo Biancani e Lavitri dello stesso partito del sindaco di Pesaro, Saltamartini dice no, nelle scuole non possiamo fare tamponi a tappeto agli studenti e professori, non c'è abbastanza personale. Boccia questa proposta presentata da Biancani e Lavitri, rilanciata nei giorni scorsi anche dal sindaco Ricci, i ragazzi e i docenti possono partecipare allo screening di massa, mancano le risorse umane per un'iniziativa come questa. Intanto dalla rianimazione ai Fornelli, la buona notizia che oggi viene pubblicata sul resto del Carlino a firma di Sandro Franceschetti, che gioia malgrado tutto, Rolando Ramoscelli ha riaperto lunedì il suo ristorante dopo oltre due mesi di chiusura tra lockdown e covid e lui racconta Io ero intubato ma non ho mai mollato, è stato meraviglioso riaccogliere i clienti, la situazione è molto complicata ma ora sono solo contento. E Rolando che ha 72 anni, ha combattuto e vinto una drammatica battaglia contro il covid che l'ha portato per un mese all'ospedale passando anche per la terapia intensiva racconta questi momenti emozionanti come se fosse davvero per la prima volta. Ieri, dice lui, racconta sono venute 10 persone, oggi 15 a fronte di una capienza ridotta da 50 a 25 posti per garantire il giusto distanziamento e poi dice che ha servito tagliolini, poi ravioli con la ricotta, erbe e carne di vitello, insomma tutte cose, tutti i piatti che chi conosce questo ristorante sa di essere insomma di ottima qualità. Invece qui più sotto, sempre su questa pagina del Carlino, c'è il racconto di questa donna, questa ragazza che prima faceva la gelataia, si chiama Dalila Serena, ex titolare di una gelateria che si chiamava Crema e Cioccolato e stava di fianco al Duomo a Fano e dopo i problemi che ha avuto con il Comune ha deciso di cambiare strada. Però lei dice, questo è confortante, dice ora mi sento felice, quando suona i campanelli la gente spesso mi riconosce come quella dei tavolini, cioè quella che ha avuto problemi appunto con i tavolini vicino al Duomo di Fano. Mentre a Fossombrone, sempre sul tema sanitario, Fossombrone non corre nessun rischio in ospedale ed è sempre Salta Martini a rispondere all'interrogazione di Vitri e Biancani, ingresso separato per i pazienti Covid. Dunque l'ospedale di Fossombrone non corre rischi. Chi va per fare esami radiologici o per altri motivi non corre rischi all'ospedale di Fossombrone. Poi andiamo a vedere l'altra pagina, l'altra pagina del, ecco, questa volta da Fano, il Corriere Adriatico, la Don Tonucci attende le USCA per i dieci anziani risultati negativi. Registrato un decesso, cinque pazienti in isolamento, ma solo uno presenta dei sintomi. Dieci persone sono comunque finite in ospedale. Mentre sul sottopasso di San Cristoforo, cancellata la discarica, su segnalazione inviata dai residenti, il Comune ha incaricato Aset della pulizia. È un sottopasso che i fanesi conoscono bene perché ce ne siamo occupati in 15 anni di Fano TV tante volte. Tante volte abbiamo segnalato bivacchi, sporcizie e quant'altro. Adesso, come si legge qui da quest'articolo di Andrea Maduzzi, insomma, questo sottopasso è stato ripulito da Aset. Intanto, pressing sulla scuola con screening ad hoc e parco bus rafforzato. I 307 mezzi trovati dal piano sono in grado di trasportare circa 6.000 studenti. Biancani dice che i ragazzi devono essere sottoposti periodicamente ai test rapidi. Poi, addio all'imprenditore Giombini, Marcello Giombini, qui andiamo a Pesaro, storico imprenditore pesarese, grande uomo di sport e generoso come pochi, classe 1941, era molto conosciuto a Pesaro grazie all'attività della sua storica impresa specializzata nell'impermeabilizzazione dei tetti, la Giombini SRL, che ha lavorato con le imprese ed edilizie più importanti della città, purtroppo è morto. a trovarlo è stato l'unico figlio che è arrivato a casa, l'ha trovato riverso sul pavimento nel suo attico di Baia Flaminia, lo hanno fatto ricoverare prima a Pesaro, poi a Fano. Quando è entrato a Pesaro era negativo al test Covid, poi a Fano invece durante l'andeggenza è risultato positivo e quando ha beccato il virus, purtroppo in un corpo evidentemente già debilitato, il virus ha fatto il resto e quindi non ce l'ha fatta. Per quanto riguarda invece la questione, l'altra questione importante, perché oltre alla crisi sanitaria abbiamo detto più volte c'è anche quella economica e comincia a farsi ancora di più sempre sentire, leggevo sempre nelle pagine nazionali che lo stato d'emergenza verrà prolungato almeno fino a luglio, quindi è una storia che andrà avanti ancora per altro tempo, la crisi economica morde e da Pesaro con l'imprenditore, il ristoratore Umberto Carriera del quale ci siamo già occupati più volte parte un'altra nuova iniziativa, che questa volta però non è soltanto pesarese, perché? Perché Carriera che nel frattempo ha fatto ospitate in televisione, nel frattempo è stato ospite di salotti televisivi e quant'altro, si è organizzato per creare un movimento d'opinione, un movimento chiamiamolo politico, anche se non è poi politico al 100%, ma comunque è riuscito a mettere insieme tanti ristoratori. Ora sui numeri, come scrive Angelica Panzieri questa mattina, bisogna stare un po' attenti. Qui si parla di 50 mila ristoratori in tutta Italia che venerdì apriranno il ristorante e faranno questa operazione, chiamiamola così, tra virgolette, di disobbedienza civile. Però ecco, sta di fatto che Carriera, che non si è fermato, è riuscito a coinvolgere tutta questa gente. E di spalla, a fargli da spalla, ci si è messo anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Lo vedete in questa pagina, lo vedete in questo screenshot dove sotto c'è Umberto Carriera e sopra Matteo Salvini, il quale Salvini sostiene appunto questa iniziativa di venerdì. Umberto, dice Salvini, è un piccolo imprenditore, non può essere considerato un negazionista o un fuorileggio, e stiamo parlando di uomini, donne, padri di famiglia che chiedono soltanto di lavorare e di poter continuare a pagare i loro dipendenti. Sono parole di Salvini che però hanno fatto arrabbiare il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il quale ha subito condannato il pensiero del leader della Lega. E cosa dice Ricci? Che tra l'altro sarà nostro ospite qui lunedì sera in diretta a Primo Cittadino, e quindi parleremo evidentemente oltre dei problemi di Pesaro, ma anche di questi argomenti. Che un ex ministro degli interni sostenga apertamente azioni illegali è di per sé molto grave, evidenzia Ricci, che poi lo faccia in un momento come questo, in piena pandemia, è irrispettoso nei confronti di chi soffre di tutti gli altri ristoratori in difficoltà che rispettano le leggi italiane. E allora, questo è quello che succederà appunto il prossimo venerdì, quella che avverrà dal 15 di gennaio non è una protesta, dice Umberto Carriera, in collegamento appunto con Salvini, si tratta di sopravvivenza. Al momento contiamo oltre 60.000 adesioni tra bar e ristoranti, pronti a ripartire da venerdì in poi nel rispetto dei protocolli. Ok, poi tutto il resto lo troverete appunto sul giornale. Intanto anche la CNA, c'è un altro fronte che è quello del settore della moda, che secondo appunto la Confederazione Nazionale degli Artigianati, dell'artigianato in questo momento è il settore della moda in ginocchio. Anche il Corriere Adriatico, titolo Carriera, riapre e Salvini lo sponsorizza, Ricci un atto illegale, grave l'appoggio, il leader leghista a sostegno del ristoratore che per la sera di venerdì ha lanciato la protesta con l'hashtag IoApro. Sempre da Pesaro, l'appello, non lavoriamo da ottobre, fateci riaprire almeno il bar, tra spese, tasse, scarsi contributi, gestori dei circoli sono in ginocchio. Questo è l'interno del circolo Loreto e in foto il gestore Michele Gaudenzi. Mentre per i pubblici esercizi sono necessari dei sostegni concreti in via d'urgenza, perché i ristori che queste persone hanno ricevuto sono tutti d'accordo, insomma sono briciole, non ci pagano nemmeno le bollette delle utenze. Pazienti positivi invece da Urbino trasferiti, ne restano sei. L'ospedale respira ma servono i rinforzi. Salta Martini dice dalla protezione civile nessuna risposta. Reparti chiusi, medici non infetti, mandati in ferie forzate. L'assessore alla sanità del comune di Urbino, Foschi, dice il comune ha attivato un numero per le segnalazioni di chi si trova in isolamento. E a Macerata Feltre usati solo 13 posti su 40 perché... E va bene. Mentre sul Carlino, sempre di Urbino, caso ospedale, sui rinforzi nessuna risposta. La regione non ha ancora ricevuto riscontri dalla protezione civile sull'arrivo dei nuovi medici al Santa Maria della Misericordia tra tre pazienti spostati in strutture del territorio, tra cui Fossombrone. Poi la Foschi che anche sul Carlino dice abbiamo un numero di telefono pronto per chi ha il virus ed è a casa isolato. Vediamo se lo citano questo numero, un numero di cellulare per non far sentire solo chi si trova appunto in isolamento. Non riesco a vederlo in questo momento ma ve lo daremo. Poi intanto la cronaca, schianto contro l'autocarro, grave un centauro sulle pagine del Carlino, l'incidente alle 16.30 di ieri aveva fastidio a Pesaro, trauma cranico per un 41enne moldavo di Muraglia soccorso poi dalle gli ambulanze. I sanitari del 118 hanno estratto lo scooterista da sotto il camion. Guardate le tremende immagini di questo incidente mentre i residenti dicono che questo incrocio è da sistemare se no qui ci scappa il morto. A Fano invece è un'intervista a Carlino Bertini il baffo più celebre della città, in pensione dopo 60 anni e lui dice sì ne ho fatti 70 da un po' e che differenza c'è? Vi leggo soltanto alcune risposte. Che differenza c'è tra un fanese e un pesarese? E Carlino Bertini risponde che i fanesi sono geniali, dice lui. E poi si parla dell'esippo, si parla di come è cambiata ovviamente la marineria. Quando sono arrivato io 60 anni fa insomma c'erano tre vongolari e 80 motopesca lavoravano al porto circa 500 persone più tutto l'indotto. Poi questa intervista invece di Doriano Rabotti a Londra Italia e Inghilterra le due facce del Covid qui a Londra hanno meno paura di noi. Fano Cinzia Pezzolesi, ex giocatrice di volley di Serie A ha lasciato nel 2007 le marche per trasferirsi nel Regno Unito lavora come psicologa. All'inizio della pandemia era quasi imbarazzante essere italiani dicevano che era tutto partito da noi. E questa intervista è una intervista molto interessante e le cose che dice appunto la nostra concittadina Cinzia Pezzolesi che adesso ha 39 anni e vive a Londra da 14 anni e fa come abbiamo detto la psicologa la dice lunga, leggendo questa intervista la dice lunga anche su come stiamo trattando noi l'argomento Covid. Però è interessante perché qui c'è uno spunto per appunto fare una riflessione un po' più approfondita che impressione si è fatta del modo in cui viene vissuta la pandemia in Italia e risponde non guardo molto le notizie italiane, le news italiane ma mi rendo conto che qui in Inghilterra c'è uno spirito di indipendenza diverso. L'azione dello Stato non viene vissuta come imposizione diciamo che in Italia c'è più flessibilità nel rispetto delle leggi e qui è stata brava, è stata molto brava dire che siamo accondiscendenti nelle leggi avremmo usato sicuramente altri termini ma comunque c'è più flessibilità nel rispetto delle leggi quindi c'è stato bisogno di una campagna mediatica più forte c'è stato bisogno di impaurire di più per ottenere l'effetto sperato ho appena ricevuto tre messaggi di amici italiani preoccupati per quello che sta succedendo con la variante del virus sapete la variante inglese mentre qui in Inghilterra a Londra non c'è tutta questa paura sembra tutto sotto controllo anche quando magari non lo è quindi capite e poi si parla di altro del problema ovviamente perché questo sarà poi l'altro problema abbiamo il problema sanitario abbiamo il problema economico poi ci sarà il problema che arriverà quando sarà tutto finito e sarà devastante quello del problema della tenuta sociale e del problema della sanità mentale di tutti noi che abbiamo subito questo martellamento per un anno e più questo elettroshock mediatico e di questo però ne parleremo non appesantiamoci troppo vedrete che sarà così i nostri bimbi all'asilo come sulle piste da sci purtroppo a Fano c'è un problema una quarantina di bambini che vanno all'asilo ma sono costretti al freddo da novembre ci sono problemi di riscaldamento alla scuola materna Seneca di Cucurano ora il tempo a nostra disposizione però è finito quindi io vi saluto qui vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per averci seguito